Cari giovani, questa è la prima parola che vorrei dirvi GIOIA 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 I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù è buono andare con Gesù è buono il messaggio di Gesù è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo dell'esistenza per portare Gesù Heureux, heureux de croire Heureux de croire en toi Heureux, heureux de croire 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 He Giorgio Giorgio